Oggi è martedì 13 agosto 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 13 agosto 1961. La mattina gli abitanti di Berlino trovano senza alcun preavviso la zona ovest della città completamente circondata da una recensione in filo spinato. L'hanno eretta nella notte i soldati della zona est, che dopo la sconfitta dei nazisti è stata assegnata al controllo dell'Unione Sovietica. Successivamente verrà sostituita da un muro, che diventerà il simbolo concreto della divisione del mondo in due blocchi, l'uno sotto l'influenza sovietica, l'altro sotto quella degli Stati Uniti. I sovietici, per recuperare risorse per i danni subiti durante la guerra, si appropriano di fabbriche e bene i tedeschi. Gli Stati Uniti, per contrastare l'Unione Sovietica, investono invece ingenti risorse economiche nell'ovest della Germania, che controllano insieme alla Francia e al Regno Unito. L'enorme squilibrio porta parecchi dall'est all'ovest per lavorare. I sovietici erigono la barriera, quindi, per evitare l'emorragia, senza opposizione esplicita da parte delle altre potenze, che la vedono tutto sommato come un freno all'invasione. Fino all'abbattimento del muro nel 1989, almeno 138 persone, ma forse 200, muoiono tentando di passare il confine, perché le guardie dell'est hanno l'ordine di sparare. Un episodio, diventato un'icona di questa fuga grazie ad una celebre foto di Peter Leibnig, è il salto del filo spinato compiuto dal primo fuggitivo, un sottufficiale della Germania Est, della cui vita, oltre all'istantanea, non è rimasto altro nella memoria collettiva. Quel soldato è Hans Conrad Schumann. Il giorno del salto, il 15 agosto, ha 19 anni. Pensando a tutta la vita che ha davanti, lascia all'est la sua famiglia. Ottiene lo status di rifugiato e va a vivere in Baviera, dove si sposa nel 1970. Per vivere si adatta a fare diversi lavori e questo lo porta alla depressione e all'alcolismo, mentre la polizia segreta dell'est gli fa recapitare lettere spesso e storte con pressione ai suoi familiari per farlo tornare. Hans torna all'est solo dopo la caduta del muro, ma i suoi parenti e i suoi ex commilitoni non lo accolgono bene. Tre anni dopo, all'età di 56 anni, dopo un litigio con la moglie, esce di casa e si suicida impiccandosi ad un albero. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.